Ciao, Berlusconi, qui Berlusconi. Ciao papà, ti va tutto bene, non mi hanno riconosciuto e con la scusa degli autografi sto facendo firmare un sacco di riduzioni di stipendio per il bravino dell'anno prossimo. Ah, scusa, sta arrivando Tini, ti saluto. Ciao. Ciao Tini, scusa, mi firmeresti un autografo? Certo, ma io non sono mica ingenua, leggo sempre prima di firmare qualcosa. Ma qui c'è scritto che rinuncio a metà del mio cachet, io non ho mica mal di testa, rinuncio a tutto il mio cachet. Bene, brava Tini, e adesso ti posso invitare a cena per questa sera? Eh beh, sai, insomma. Adesso non mi puoi mica dire che hai il mal di testa. Oh, che sbandata, ho già fermato. Ok, ci vediamo tra due minuti. Va bene, ciao. Pronto? Papà, scusa, ti volevo solo avvertire che stasera torno più tardi. Ciao. Fuori da qui! Ma fai qui! Io lo prendo, tu! Io lo prendo, tu! Fermo, tu la butto, sono Berlusconi due, la vendetta! Ehi! 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 Non avrò la diretta, ma il diretto ce l'ho! Grazie, thank you. Cosa possiamo fare per te? Sono un vostro ammiratore, potreste firmarmi degli autografi su questi fogli. Ma certo, non c'è nessun problema. Grazie a voi. Grazie, grazie, grazie a voi. Forza, ragazzi, sì, forza. Ah-ha, cuccato in pieno. Caro Berluschino, ma lo sai che sei un bel volpino? Ciao!